Questo accanimento con tutte queste martellate fatte precedere da un'azione di strozzamento che a sua volta era stata preceduta da numerosi pugni che l'imputato gli aveva sferrato nel volto secondo noi delineano un'evidente crudeltà. Per i familiari di Catiadello Marino la quarantena ritrovata senza vita e con la testa fracassata sul greto del torrente Afro alle porte di Sansepolcro in provincia di Arezzo lo scorso luglio non ci sono dubbi, la donna è stata uccisa in modo crudele ed è per questo che l'avvocato che li assiste depositerà a breve una memoria al pubblico ministero perché venga contestata l'aggravante della crudeltà per adesso non indicata nel capo di imputazione. Dell'omicidio della donna è accusato Peter Polverini, 25enne di San Giustino Umbro, in carcere dallo scorso settembre in attesa di giudizio. Questa è una richiesta che io già avevo formulato al pubblico ministero in prima battuta e che non mi è stata accolta cioè nel senso che il pubblico ministero a seguito di una memoria che presentai all'inizio inserì un aggravante che non era stata inizialmente contestata che era quella della minorata difesa. Alla luce della perizia che è stata depositata che è vero riconosce un vizio parziale di mente in capo all'imputato però è vero anche che sottolinea nuovamente la crudeltà con la quale l'omicidio è stato commesso. La sentenza è tesa per il prossimo 10 luglio. In caso di condanna Peter Polverini potrebbe godere di uno sconto di pena per la semi-infermità mentale. La condanna così con rito abbreviato potrebbe essere anche di 10 anni, pochi per i familiari della donna. La vita di Katia è stata interrotta in maniera crudele e in maniera brutale e quindi ci si augura che alla fine il Polverini abbia una pena adeguata a ciò che ha commesso.